Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art, siamo di nuovo su Neverwinter e siamo alla caserma degli orchi Per quest'altra missione, dobbiamo uccidere 3 cristiani, dobbiamo entrare nella caserma, andiamo Perfetto, ci curiamo prima, ok Scusi, una bella botta, scusa Mamma mia quanto fanno ste spade, allora Prima di proseguire ragazzi, vediamo se possiamo equipaggiare qualcosa di meglio di quello che abbiamo Oggetto non identificato, identifica, perfetto direi che va benissimo Sì, 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 lo so Ehm, no Questo non l'identifico neanche No, meno serie generazione Statua, tesoro Oh, vedete, questa è una spada che adesso possiamo usare, anche questa Fa più male questa? Sì Equipaggio alla mano primaria Oggetto non identificato Andiamo qua, no neanche Dobbiamo guardare solo gli oggetti verdi perché significa che danno qualche beneficio Secondaria Secondaria? Lo mettiamo sulla secondaria? Ah sì, dai A posto Va bene così E là? Ciao Minchia, sono forti Allora, tutti attacchi furtivi per sbrigarcelo subito Oh, oh, chi è questo? Che cazzo? Da dove è uscito? Scusate Tu che cacchio vuoi? Ma va a cagare Schivato Cosa? La trappola Puttana Eva Devi morire E che cazzo Aia Ma quanti sono? Vabbè, non è necessario usare la tecnica Avanza Bastardo C'è qualcun altro che vuole morire? A posto? Abbiamo finito Andiamo Vabbè, ovviamente una caserma Di sinneschiamo questa trappolina Di merda A posto Anello castigatore Oh, vediamo l'anello castigatore che cosa ci dà No, non ci fa migliorare Perché altrimenti l'avrei trovato in verde Non lo trovo neanche l'anello Va bene, apri cassa Sì, sì Vai, vai, vai Tutto quanto A posto Sì Allora, raffina tutti quanti Vai Conferma Vai, tutto quanto Vai, raffina tutto A posto No, niente L'anello non lo trovo, raga Non lo so Ah, scrigno di pergamino e navolo Boh, vabbè Andiamo Buon salve Aspettate, ho visto qualcosa che sbrillucica qui Una chiave della caserma Va bene Disineschiamo Oh, e dai Ancora chiave della caserma Va bene Dobbiamo andare di qua Per forza di cose Salve C'è nessuno? No Qua sì Ah, ho capito Adesso uccido questa Mi dà la chiave Di quella parte Poi Tutto il resto Viene da sé Aio Bastardo senza gloria Ora ti ammazzo Benissimo Veloce, veloce Ragazzi Altro altare portatile Qui ci deve essere qualcosa Per forza Abilità Va a cagare Ne, niente Oppela Qua sotto c'è qualcosa Me lo sento Ma dove si Oh, sì Siamo passati attraverso le tende Vabbè C'è un tesoro Eh, kit natura Va a cagare Apri il forziero Aia Che cazzo Un mimic Cazzo Va a cagare Bastardo di un mimic Il mimic Sono Gli esseri più infami Di sto mondo Ragazzi Perché sono Sembrano Degli Dei forzieri In realtà Quando provi ad aprirli Te magna Salve Aia Sto crepando Sto crepando Sto crepando E' urgente E' urgente Devi morire Devi morire Devi morire Devi morire Ciao Beviamoci qualcosa Dai Facciamo un drink Qui c'è niente? No E tu? Altro regalo Lì Oh Un'armatura Perfetto Proseguiamo Disineschiamo la trappola Che sennò ci ammazza Perfetto Salve 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 Te Tutti attacchi furtivi Questi ragazzi E' morto E' morto E' morto Si Oh oh Son prono Son prono Momento Crepa Oh Che cazzo Scusi eh Mi ha dato un po' fastidio Questa Inventario pieno Cazzo Allora Dobbiamo eliminare qualcosa Dall'inventario Mi davano fastidio le mosche Scusate Ehm E non lo so raga Togliamo questa Niente raga Ehm Non so come fare Non abbiamo posto nell'inventario Identifica Vai Identifica tutto Questi Li potremmo usare a livello 15 E 17 Addirittura Cioè li dobbiamo tenere Cari cari Il problema è che Abbiamo troppi Io mi ero dimenticato Di avere anche un secondo zaino Quindi Abbiamo troppa Troppo ciarpame Vai Vediamo No niente Questo lo buttiamo Che dite Che mi dispiace Usiamo per tingere E dipingiamo E dipingiamo I stivali Non lo so Non lo so Ragazzi Non lo so Vediamo se così Ce la facciamo Arre No Un altro forziere Di Shandakowl Ma va a cagare Sbatti i coglioni Del forziere Scusa per tingere Pugnale Dai Applica modifiche A posto No ce n'è un altro Dai A posto Prendi la chiave Mortacci tua Aspettate Lì c'è qualcosa Manolesta Dai dai Questo che possiamo Prenderlo No Cacchio Inventario pieno Sempre lo stesso problema Elimino Ciao Eh però questo ci può fruttare qualcosa Usiamo per tingere un'altra cosa Dai Quanti crudeli Dai A posto Dai Salve Uh a mensa eh Vi ho beccati nel momento più Bello Simbolo crudele No la lasciamo stare Da qua siamo venuti Prima comunque Altra chiave della caserma Salve Buongiorno Vabbè Diventiamo invisibili Eh non abbiamo più spazio ragazzi Dobbiamo vendere qualcosina Eh vabbè Questo neanche lo possiamo aprire Aspettate Cazzo non abbiamo il potere Non abbiamo il potere Dobbiamo sbrigarcela senza il potere Via Benissimo Via Devi morire Aia E' morto Allora Dobbiamo eliminare qualcosa Questo è poco ma sicuro Ah qua abbiamo Un talento Vai Oh vedete che adesso Potremmo utilizzare anche quelli Allora io direi di Saggezza marziale Addirittura Gioco di gambe veloce La tua resistenza si rigenerà Uuuu Buono 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 Però io Finirei questo Allora Lo lasciamo Elimina Si Anche 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 questo Però questo ci può fruttare parecchio Questo lo togliamo Anche questa Così ragazzi Stiamo un po' più tranquilli Dai Anche perché qui adesso C'è un forziere Ecco Perfetto Adesso andiamo a vendere tutto Ragazzi Forza Perfetto Abbiamo completato Anche questo Eh Si Va bene E io vorrei vendere qualcosa Si può? Si Che si può Negozio Vendi Vendi Questo Questo si vende Eh Si Si vende Questo si vende Questo si vende Si vende Si vende E si vende Anche questo Questo No L'armatura no Col cazzo Questo si Questo si vende Questo Avevamo saltato Prima Questo Questo Via i guanti Crudeli Che è successo? Ma perché ogni tanto Fa sto scherzo? Mi scusi Via Questa 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 Per queste ce le teniamo C'è qualcos'altro? Allora Dobbiamo equipaggiare un po' di roba Apriamo sta cassa Così vediamo Questa la potremo avere a livello 20 Perfetto Allora Cintura di Mary Arrow La equipaggiamo Così la cintura vecchia la vendiamo Questo lo raffiniamo Tutti quanti La fine Questo che roba è? Questo No lo vendiamo Ah l'armatura Equipaggia Eh l'anello castigatore Mi piace Maschera crudele L'anello risanante Bah insomma Questo si Amuleto risanante si Ok Allora Sempre negozio Sì sì Acquistiamo Ancora? Acquistiamo Perfetto Vendi Vendi Questa la vendiamo Questa la vendiamo Questi li vendiamo Anche questa Questo pure Abbiamo almeno un po' di spazio in più ragazzi Ora abbiamo Un tesoro in più Da aprire Apri cassa Apri cassa Vabbè Abbiamo due oggetti non identificati Questo lo identifichiamo Perché lo potremo usare Pugnale castigatore più due Eh no questo Oh che cazzo ho fatto Eh questo lo vendiamo direttamente Vendi No lo devo identificare Non mi dire Che cagata Va bene Negozio Va bene ragazzi Allora Noi l'episodio per oggi lo finiamo qui Noi ci vediamo nel prossimo episodio E faremo il resto di queste quest Spettacolari Un bacione Ciao Noi e Charti Ciao Noi Grazie a tutti.